il nostro fantasma la magia non si carica oltre questo punto si si, non si carica oltre questo punto il nostro corso il nostro corso ci ricongiungiamo lì, linea dissestata caverne pungine spero vorrei andare avanti di là dopo quel mostro quel mostro che c'è praticamente ucciso è una specie di spadaccino oh però quella bastardo è una specie di spadaccino siamo prenditi proprio nella tana dei ragni ragni troppo cresciuti ci sono da questa parte quindi o sopra o di qua però sopra ci sono dei passaggi di nuovo questo polso pericolosissimo mamma mia non pensavo che questo episodio fosse così combattuto nooo ma perché mi devono fare queste cazzate stardo salta però ma perché mi fai questi salti del cazzo dai però ma perché no a e a a a a a Nadai E c'era con un altro uovo arancido Minchia No Non voglio rischiare qua Mamma mia Mamma mia Mamma mia sti cosi Oh cazzo Mamma mia Un'aria così brutta No perché brutta fatta Difficilissima Caccia assolta Sapevo io Che dovevo colpirmi Sti bastardi Ok Mamma mia Sofferenza Una vita Alla via Che so Un'agonia Praticamente Ragazzi Ora mi sta portando Sto coso Sc openings dammi una panchina e fammi concludere questo episodio sofferto, partorito, chiamalo come vuoi il cesareo qua e non mi sento più la mano chi è? chi sei? mascheraio e la maschera ho un volto, quello di questa creatura qui nello sacro è così difficile capirlo un volto che magnifica cosa da possedere non tutti sono così fortunati hai senza volto di questo reama, offre il mio aiuto una maschera, un volto gli serve? no, per definire, per concentrarsi, per esistere una maschera, un volto gli serve? no, per definire, per concentrarsi, per esistere aspetta, una maschera? una maschera, un volto? mi serve? no, no, per definire? per concentrarsi, per esistere qua c'è, vabbè mamma mia no, 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 tu rimani dove sei? c'è, per niente mi ha fatto arrampicare sulla cima del mondo e tu chi sei la monsciata? oh qui c'è qua c'è la monsciata c'è la monsciata? ecco c'è la monsciata? e la monsciata di sfrutano di sfrutano di sfrutano dai però minchia una malamente dai non fatti colpi da questa ben ricarica due volte si però dai minchia che co... no vabbè dai troppo ingiusto dai troppo ingiusto troppo ingiusto ah io ho saltato però ma perché mi devi fare fare queste minchia di di perdite così villeggio distante con le ottero qua cambia almeno una sezione un pochettino più semplice no calma e sangue freddo minchia la roba minchia la roba una zona così di merda proprio bastarda non... dai stazione con le otterie dai sblocchiamo per favore per favore damma... mamma mia sì scusatevi ma questo episodio mi ha distrutto mai un episodio mi ha dato questa soddisfazione nel senso di terminarlo non ne potevo più a me ne abbiamo completato tutta questa parte panchina ancora nada de nada e... e alla prossima quindi ciao